La scelta di Sara e Niloufar, la dura reazione di Lorenzo Uomini e donne Gossip News, la scelta di Sara e Niloufar, ecco come reagisce Lorenzo. . Nuovi colpi di scena a Uomini e donne, dove lattenzione su Sara a Fifella e Niloufar a Dati è elevatissima. In molti, infatti, attendono con trepidazione di conoscere quelle che saranno le scelte finali delle due troniste napoletane in carica questanno. . Chi sarà la loro scelta finale? In queste ultime puntate del Trono Classico ci sono stati un bel po' di colpi di scena, alcuni dei quali hanno spiazzato il pubblico. La scelta di Niloufar di Uedi è a rischio? Ecco il motivo. . In primis abbiamo visto che Niloufar ha rimesso in discussione il percorso fatto fino a questo momento con i corteggiatori Dordano e Nicolò, al punto che gli opinionisti di Cancelletto Uomini e Donne hanno ipotizzato che latronista in realtà affesse ancora interessa a Lorenzo, che nel frattempo ha scelto di chiudere il percorso con lei e di concentrarsi solo su Sara, che stando alle sue ultime dichiarazioni lo farebbe impazzire. . . Lo stesso Lorenzo, nel momento in cui Tina Cipollari ha avanzato l'ipotesi di un interesse di Niloufar ancora vivo nei suoi confronti, ha chiesto di essere lasciato in pace e quindi di essere tirato fuori da tutta questa situazione. . Peccato, però, che la bella Niloufar non abbia smentito in maniera veemente le affermazioni di Tina e in questo modo ha contribuito a rendere tutto ancora più dubbioso. . 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